Ed eccoci qua, siamo con Michela Andreozzi, benvenuta. Ciao Alessandra, ben trovata. Ben trovata. Siamo nel nostro spazio delle interviste e l'occasione sono i 145 anni del messaggero. Il vice direttore Alvaro Moretti ti ha fatto vedere la splendida mostra che c'è con tutte le prime pagine che emozionano. Quindi la mia prima domanda è, il tuo rapporto con il messaggero? È un giornale di casa, non è un giornale di casa. Pensavo che mi chiedessi il mio rapporto con i 145 anni. Potrei dire che il messaggero se li porta bene come me. Che ne ho 145 e me li porto benissimo. Allora, il messaggero è assolutamente il giornale di casa. Io sono cresciuta a Roma da famiglia napoletana, per cui diciamo che sono stata la prima di famiglia, diciamo parte di quella generazione di romani che però sono arrivati da fuori. E il messaggero si è sempre letto perché era il giornale di Roma, come diceva giustamente Alvaro prima. Lo leggeva mia nonna, lo leggeva mio zio, io abitavo a casa con i miei genitori, mio fratello e mia sorella, mia nonna, uno zio, ci sono due coccodrilli ed un orangotanco, solo non si vedono i due leuorri. Questa era la situazione familiare. Per cui assolutamente era il giornale che ti raccontava questa città. E dal punto di vista professionale hai avuto delle rispondenze nel messaggero, non so, magari una prima critica, una prima… Devo dire che il messaggero è sempre stato molto gentile con me. Sì, sì, devo dire anche quando ho fatto Cosa a teatro, che sono arrivata le critiche, oppure anche per quanto riguarda i film, mi sono sempre interfacciata con… quando sono usciti i film mi sono sempre interfacciata con delle bellissime firme che ci sono qui, da Andrea alla Sata, di cui stimo tantissimo il lavoro, per cui c'è sempre stato uno scambio molto vivace e costruttivo. Quindi no, no, non ho mai avuto un problema in vita mia. Beh, insomma, non ti abbiamo fatto una presentazione perché sei talmente famosa che uno non è che… No, non fare così. Ma no, ma non sono talmente… Ragazzi, talmente famosi sono altri però. No, però insomma… Sono conosciuta in città. Sceneggiatrice, commediografa… Attrice, mi tanto, come adesso. Attrice, quindi… Ho fatto anche la radio. Quindi, insomma, hai veramente un ventaglio. In questi giorni sei a teatro… Sono a teatro, guarda, è inutile fare promozione purtroppo perché è tutto sold out. Quindi, cioè, volevo anche… Mi faceva pure il piacere dire guarda, sono a teatro Golden con il regalo perfetto insieme a Simone Montedoro ma non c'è più un biglietto. Però il regalo perfetto mi dà l'occasione per farti una domanda. Qual è il regalo perfetto per te? Una sorpresa. Non voglio sapere che cosa c'è dentro. E invece il regalo perfetto per la città di Roma, qual è il regalo perfetto per la città di Roma? Sarebbe assolutamente la pulizia, secondo me, perché aiuterebbe tutti. Da noi che ce la viviamo, i turisti che vengono da fuori, i bambini che giocano, gli animali, le carrozzine, l'igiene. questo per me è un tarlo fondamentale, quello della pulizia. È un tarlo fondamentale. Cioè io so una che se trova una roba per terra mentre sto andando… Sì, la prendo e la vado a buttare. Questa è la verità. Spirito civico. Però… Sì, troppo pure. Cioè so una… Io quando faccio le stories che trovo qualche cosa per terra io taggo il sindaco, cioè so una così delle stories. No, però mi legge. Ah, ecco. Lo so che me leggi, Qualtieri. Beh, questo è già un passo. Sì, sì, già una cosa. Sì, sì. Che prenderà nota delle tue segnalazioni. Ogni tanto è successo che ho visto che sono stati fatti agli interventi, quindi mi auguro che diciamo questa piccola popolarità che uno ha serva anche a questo. Oltre all'impegno civico però la tua cifra diciamo appunto… Niente, zero. Proprio abbiamo un problema. Va bene. Mi hanno dato questo. Oltre, stavo dicendo, oltre all'impegno civico la tua cifra però è almeno, insomma, conoscendoti, vedendo tutte le opere che hai fatto, è il punto di vista femminile. Ecco, allora, volevo portarti su questo tema. Qual è il tuo punto di vista sul femminile quotidiano visto che siamo in un quotidiano? Allora, io ho una femmina all'abito quindi non posso avere un altro punto di vista. Posso empaticamente proiettarmi dentro il punto di vista di qualcun altro, non il popo come dico di ragazzi adesso. Per cui non ne conosco altro. Posso dire che questo è un momento in cui il punto di vista femminile, cioè la chiave attraverso cui noi vediamo delle cose. Io penso all'inquadratura, no? Il mio mestiere è fare regia di base, faccio quello principalmente. Quindi io decido che cosa inquadrare, ma decido anche che cosa non inquadrare. Quindi il punto di vista è un frame, è uno spicchio di mondo su cui io poso gli occhi. Non sono i miei occhi, è la scelta di quello che io voglio guardare. Quindi se io voglio guardare te e l'albero dietro includo il tema del Natale, se voglio guardare te e il microfono che non funziona mi sto inquadrando un'altra cosa. Se inquadro il tavolino con gli occhiali e il giornale e il telefono sto inquadrando il tuo mondo lavorativo. Quindi in qualche maniera il punto di vista è quello che fa la differenza. Io auspico di vivere un giorno in un mondo dove non ci sarà più una questione di genere legata al punto di vista. È vero che in questo momento storico noi abbiamo bisogno, prova ne è il meraviglioso film di Paola Cortellesi che ha un punto di vista femminile sul femminile ma universale tant'è vero che ha fatto ha fatto quello che ha fatto e sta facendo quello che sta facendo perché c'è bisogno di questo c'è bisogno di guardare le donne di osservarle con un occhio interno quindi con un occhio di chi abita le donne perché altrimenti non si riesce a capire dov'è questo squilibrio che ci ha portato anche a queste escalation di violenza a cui non sappiamo tenere testa a cui non sappiamo fare fronte quindi io credo che il punto di vista racconti la comprensione del mondo per come la vediamo noi e quali possono essere le nostre problematiche e i nostri limiti. Senti questo è un ragionamento che mi interessa molto perché è come se a un certo punto negli ultimi dieci anni noi non fossimo state messe più a fuoco cioè siamo a proposito di regia no? Sì. a proposito di punto di vista siamo diventate sfocate siamo diventate un unicum donne ma donne così non persone che fanno sì. Ecco allora secondo te pensando diciamo anche alle generazioni più giovani cosa possiamo dire? Ma intanto guarda io penso che noi dai giovani dobbiamo prendere perché loro hanno un senso della diciamo dell'equo come dire delle pari opportunità che noi non abbiamo perché noi abbiamo introiettato sto benedetto patriarcato per il quale è normale che le donne vengano gerarchizzate a seconda del loro lato estetico per le quali è normale subire gli affronti dell'ageismo cioè non puoi invecchiare se e se invecchi i capelli grigi non va bene se te rifai non va bene cioè tutto questo mondo di giudizio nei confronti della donna ha sfocato il tema delle donne le nuove generazioni si rifiutano di farsi sfocare infatti si mettono molto a fuoco in una maniera molto individuale quindi ci sono come dire io sono femminista io sono questo io sono fluida io sono contro io sono pro cioè hanno comunque un punto di vista sono tante voci diverse ma probabilmente c'è bisogno di questo cioè c'è bisogno che si sviluppino tante voci diverse perché si crei una nuova generazione di donne tutte a fuoco quindi diciamo che ognuna questo individualismo non è sempre buono perché poi metti il fuoco su di te però siccome ci sono molti fuochi anche grazie a questi demonizzati social network che hanno invece una loro utilità secondo me questo mettere a fuoco i singoli ci aiuta a mettere a fuoco un'intera categoria che è stata tanto bistrattata noi come donne non siamo state a fuoco per tanti anni perché abbiamo noi stesse introiettato una questione relativa al merito o alle possibilità legate a valori che non erano gli stessi valori degli uomini cioè non erano il merito non era la qualità non era il lavoro che veniva fatto cioè io vorrei essere rispettata come donna ma che il mio lavoro venisse giudicato indipendentemente dal sesso che abito direbbe Almodovar e invece succede che qui c'è stato un gigantesco mischione ed è un mischione che è stato fatto soltanto nei confronti delle donne nell'oggettificazione delle donne nel ventennio che abbiamo passato in precedenza lo sappiamo tutti in questa grossa oggettivazione e mortificazione che per fortuna è stata poi seppellita con degna sepoltura speriamo però hai parlato delle categorie e hai parlato dei social allora mi è venuto così in mente il monologo che avevi fatto in una trasmissione televisiva bumerissima non mi ricordo non so se era bumerissima o belve non me lo ricordo perché mettevi appunto a confronto le bumer sì ah ok esatto con invece le millennials ecco questa categoria ti diverte ti stimola allora io abito fieramente abito fieramente il mondo bumer in realtà io sono della generazione X che sono quelli nati tra il 60 60 il no scusami il 58 e 60 no di più 58 e 69 70 forse qualcosa del genere è la generazione X forse anche 80 guarda no scusami forse anche 70 volevo dire sì 70 e che è stata una generazione disastrosa cioè noi non abbiamo saputo ereditare il piglio dei boomer veri cioè i nostri genitori quelli che erano sopravvissuti alla guerra e abbiamo subito tutto come l'avrebbe detto D'Agostino 30 anni fa abbiamo subito tutto il peso dell'edonismo reganiano quindi ci siamo riempiti dell'acca e poi a un certo punto negli anni 90 eravamo tutti depressi vestiti di nero nichilisti privi di speranza mi interessa la questione generazionale mi è sempre interessata ne ho fatto ho fatto un film siamo genitori contro influencer mi è sempre interessata perché credo che sia necessario lo scambio ho moltissime amiche molto più giovani di me anche 20 anni più giovani di me e proprio stamattina mi scambiavo mi sono scambiato un messaggio con Liliana Fiorelli che saluto la mia cara amica bravissima attrice insomma ormai è emersa però diciamo veramente forte e lei ci siamo scambiati questa vignetta in cui ci ha scritto che se sei un artista passatemi la perolaccia si inizia con promettente esatto come dire fiorente promessa ora non mi ricordo come era la esattamente come era la scritta e finisci con diciamo poi sei venerato maestro venerato maestro e mezzo sei un totale coglione esatto solito stronzo per cui io gli ho detto mi sa che tu sei una promessa io sono un maestro e lei mi ha detto no mi sa che siamo tutte e due ancora una fascia solito stronzo quindi diciamo che è interessante questo scambio generazionale perché intanto ti fa sentire utile fa sentire utile l'esperienza che tu hai vissuto e anche rende nobile l'età in cui si vive perché io vorrei anche che insomma fossero smettessimo di demonizzare si benetti 50 come se fossero uno speracchio intanto arrivace arrivace così che so due e poi c'è da dire anche che quando si dice appunto sono i nuovi 35 in parte è vero nel senso che se tu anche soltanto banalmente mi viene in mente guardi le foto di un cinquantenne di 40 anni fa erano del signore con la retina in testa e la sportina e le calze contenitive mo no cioè ma nessuna della mia generazione adesso da attrice regista vieni naturalmente con un meraviglioso colore viola perché io me ne frego della superstizione molto bene hai parlato di genitori versus influencer che è uno dei tuoi tanti film adesso c'è un nuovo film che si chiama pensati sexy pensati sexy perché questo titolo che cos'è pensati sexy poi diciamo che va in onda su prime video dal 12 febbraio esatto allora pensati sexy è una commedia con Diana del bufalo che è una ragazza che non si piace e quindi in qualche maniera è un film sul body shaming ma è anche un film sexy proprio perché appunto si chiama pensati sexy parafrasando un po' pensati libera della Ferragni perché comunque è una formula che in questo momento è molto incisiva ed è la storia di questa ragazza che fisicamente non si piace è una Diana del bufalo che ha fatto un eccezionale lavoro anche proprio sul corpo non si piace si vede brutta si vede piena di difetti e quindi lei non riesce ad avere come dire confidenza col suo corpo e confidenza anche nei rapporti più intimi è una cotta per il suo capo e quindi diciamo che questo impedimento dovuto al fatto che lei giudica il suo corpo la porta in qualche maniera ad evocare uno spirito guida non dirò non farò spoiler su come lo evoca perché è una delle parti più divertenti del film uno spirito guida che la possa liberare da queste inibizioni dovute in realtà ha la sua insicurezza e lo spirito guida si manifesta in forma di porno star interpretata da una porno star che si chiama Valentina Narpi che ha fatto un lavoro eccezionale ed è una commedia veramente molto divertente perché utilizza la cifra del sesso per parlare in realtà di quanto noi dobbiamo fare pace con quello che siamo se ti dovessi definire questo film con una parola ti direi con una frase ti direi che è cenerentola che va al ballo vestita di stracci come è giusto che sia dunque pace con noi stessi tu tenti di dare pace a qualcuno ogni mese su Molto Donna che è uno dei settimanali che ho la fortuna e la con gratitudine diciamo coordino uno dei settimanali del gruppo Caltagirone insieme a Molto Economia Molto Futuro Molto Salute e Molto Donna su Molto Donna c'è la tua rubrica posta del cuore e di altri organi vitali perché parliamo di mal di fegato mal di testa ovviamente anche organi più picchianti voglio dire più interessanti da usare che allora e da un anno e mezzo più di un anno e mezzo appunto rispondi alle lettere ecco che idea ti sei fatta delle persone che interloquiscono con te che cosa hai scoperto in questa in questa tua avventura allora intanto intanto grazie perché è uno spazio che io ho sempre amato la posta del cuore e ho adorato quando abbiamo pensato insieme di creare questo spazio perché poi è molto vivo e ha un modo di interagire anche con una serie di persone che magari non usano i social perché chi mi vuole chiedere una cosa di solito mi scrive su Instagram e invece c'è questo questo modello questa interazione con la lettera anche con la mail stessa che è fa parte di una tradizione ma che è molto viva cioè non sempre verde come l'albero di Natale non va sempre di moda allora ho scoperto una cosa che mi ha abbastanza turbato e che su cui voi vorrei ritornare è che diciamo la malattia di questo millennio si è attaccata all'ego delle persone cioè io credo che di base chi ha fatto le spese di questi ultimi anni ma anche del post-covid anche di queste infinite difficoltà è stato l'ego cioè questo ego è malato sta male bisogna coccolarlo bisogna un po' anche ignorarlo qualche volta perché spinge gli esseri umani a dei comportamenti difensivi o autodifensivi o troppo difensivi che diventano poi dolosi nei confronti dell'altro l'ego non ci permette di agire ma solo di reagire un po' ho scoperto che siamo quello che reagiamo cioè se reagiamo bene vuol dire abbiamo un rapporto equilibrato con questo ego ma chi reagisce male o tenta di convincere gli altri o di manipolare c'è sicuramente qualche problema di ego che è fuori diciamo dal dal proprio equilibrio no? e ho scoperto che la maggior parte dei problemi che vengono fuori che vengono raccontati sono relativi al tema della manipolazione cioè le persone si ritrovano ad essere manipolate perché perché l'ego di qualcun altro si è nutrito della loro disponibilità è stato ingannato è stato tradito è stato nutrito e molto spesso le persone si sentono in colpa per aver permesso a qualcuno perché mi sono fatto fare così male questo più di 20 anni fa 30 anni fa quando c'erano le poste del cuore classiche in cui dice mio marito mi tradisce eccetera con la segretaria non ti preoccupare tu basta che fai l'isistrata e lui torna a casa non è questo qui c'è proprio un problema di anche spesso abusi psicologici in qualche maniera anche sottomettere l'altro per il proprio nutrimento c'è una forma di vampirismo generale non è che tutti adesso sono affetti da questo ma se devo fare una sintesi delle problematiche che sono uscite fuori sono molto relative a questo vampirismo emotivo e sentimentale quindi mi sono fatta una cultura intanto che è sempre utile e devo dire che la cosa che mi dispiace di più è che le persone si colpevolizzano di aver permesso ad altri di entrare nella loro vita con le scarpe sporche di fango invece mi viene da dire non è colpa vostra perché i manipolatori fanno di mestiere questo cioè manipolano quindi ingannano l'altro e fanno credere di essere quello che non sono c'è da dire che nel momento in cui tu attraversi una esperienza di questo tipo capita a tutti sul lavoro in famiglia nelle relazioni interpersonali eccetera se ne esce sempre molto resistenti e molto forgiati anche migliori spesso io questo lo dico sempre dico beh c'è sempre un modo però mi piace tanto poter dare un punto di vista guarda io non mi riconosco tantissime qualità sono abbastanza critica nei confronti di me stessa mi riconosco la velocità questo è una cosa che mi riconosco mi riconosco la serietà cioè sono una persona molto seria nelle cose che fa quindi non so probabilmente se ho un talento lo uso bene lo uso tutto e lo metti al servizio e lo metto al servizio e sicuramente mi ritengo una persona saggia questo sì ma sembra una vecchietta già da piccola hobby one mi chiamano le amiche figurati hobby one hobby da hobby qualche hobby Michele Andreozzi per concludere visto che siamo alle battute finali voglio un augurio di Natale per i lettori del messaggero per il messaggero e per la città allora me la stai facendo molto difficile allora l'augurio di Natale per i lettori del messaggero è di conservare questo ehm rapporto con ehm con la notizia cioè con l'informazione che riguarda il luogo dove abitiamo perché la globalizzazione la gentrificazione ci hanno fatto dimenticare che siamo cittadini di una città e invece per ricordarci solo che siamo cittadini del mondo cittadini del mondo va bene ricordamose che siamo qua quindi questa è la prima cosa quindi gli auguro di mantenere stretto un legame con la città anche proprio attraverso il messaggero adesso è facilissimo prima bisogna comprare uscire comprare adesso lo ritrovi in mano sul device in modo molto semplice eh un auguro al messaggero sono altri 145 anni come minimo di evoluzione giustamente e di eh capacità di accompagnare con equilibrio per secondo me una delle caratteristiche principali del messaggero è che è una testata equilibrata che ha più a cuore l'umano che è il politico più a cuore la città che è il problema è più sulla soluzione che sul problema e questa è una cosa che ho sempre apprezzato e un augurio a la città di Roma resisti resisti ce la stiamo mettendo tutta tutti resisti e allora con questo bel augurio noi concludiamo ti ringraziamo tantissimo auguri di buon Natale buone feste albero o presepe assolutamente albero albero allora sotto l'albero buone feste a tutti grazie grazie grazie